Qui è la Germania che vi parla. La Germania vi parla. Presto le spiagge dell'Italia si tingeranno di rosso del sangue dei vostri figli. Non basta più sopravvivere. Bisogna sopravvivere con l'atteggiamento giusto. Dobbiamo fare molta attenzione. Qualcuno tra l'equipaggio pensa che ci sia una talpa. Sveglieresti i nostri segreti al nemico? Il nemico è già qui. È dappertutto. Signora Lessing, lei mi ricorda quanto sia importante il nostro lavoro. La marina militare sta cospirando contro Hitler. A quanto pare c'è un personaggio chiave. Deve trovare Fidelio prima che ci prendano di mira. Sa come chiamano questa zona? La trappola per donne. Fermo! Non si muova! Riuscirò a trovare Fidelio. Non si tratta di me, ma di che? Delle faccende in cui sei coinvolto. Ovvero? Avanzi! Adesso! Vorrei ascoltare la sua ultima confessione. Se non ti puoi fidare di un errore, di chi è allora? Forse non sono la brava persona che tu pensi che sia. Affattetemi! Forza! Adesso avanti! Abbiamo già perso questa guerra. Ehi! C'è qualcuno qui? So che è la cosa giusta da fare. Perché? Se ci riusciamo, per i nazisti è la fine. A mantenerli al potere è solo la paura. Non sottovalutare mai il potere della paura, ragazzo mio. Ma non sottovalutare mai il potere è solo la paura. Come si è la fine. Ma non sottovalutare mai il potere è solo la paura.